Marco Chiosa, benvenuto in azzurro, benvenuto al Novara Calcio. Quali sono le tue prime impressioni da giocatore del Novara? Sono molto contento di essere approdato in una piazza così importante, in una grande società come il Novara. So che mi avevano seguito già in precedenza e finalmente le nostre strade si sono incrociate in maniera definitiva. Quali sono le tue aspettative per questa stagione e hai visto il Novara da fuori? Che squadra hai visto? Ho visto una squadra tosta e ben organizzata. Spero di portare e di integrarmi subito al meglio, mettendomi a disposizione del mister e dei miei compagni. Cerchiamo innanzitutto di raggiungere la salvezza per poi raggiungere eventuali traguardi. Quali sono le tue caratteristiche per quei pochi tifosi che magari non ti conoscono bene? Io sono un difensore mancino, ho giocato sia centrale che terzino, sia in difesa 3 a 4. In questo momento il Novara ha visto che sta giocando con la difesa 3, quindi spero di poter ritagliarmi il mio spazio. Sei un giocatore giovane, classe 93, ma hai già accumulato tante esperienze, hai raggiunto anche due volte i play-off. Una volta Casarini ti ha stoppato con il Bologna, l'esperienza nonostante la giovanità. Sì, ho fatto girare già molte squadre e sono contento di aver acquisito già una buona esperienza in giro per l'Italia. E tra virgolette ho raggiunto due volte i play-off, sperando di poterlo raggiungere ancora. Un saluto per chiudere ai tuoi nuovi tifosi e un Forza Novara. A tutti i tifosi innanzitutto auguro un buon inizio anno e sperando che possa regalarci molte soddisfazioni. E soprattutto Forza Novara.